Ti consiglio un racconto gotico ambientato in Calabria. Anzi, il racconto gotico ambientato in Calabria per eccellenza. Perché il sangue e la vita di Francis Marion Crawford, che oggi possiamo avere in un'edizione straordinaria, pubblicata da Caravaggio Editore e curata da Enrico De Luca. Scritto sul finire dell'Ottocento, durante la permanenza di Crawford, uno degli scrittori più prolifici del secolo, nella torre costiera di San Nicolarcella, fu pubblicato poi solo nel 1905 nella rivista Collier's Weekly Magazine. Perché il sangue e la vita ha come oggetto di interesse un caso di vampirismo femminile. Il narratore, che come Crawford viveva all'interno della torre cinquecentesca, racconta ad un suo amico danese, Holgen, di un dilemma che lo assale e un terrore che lo atterrisce ogni notte. Infatti, sotto la torre nella quale egli dimora, scorge un tumulo simile a una tomba e una figura che si muove in modo sinistro nella penombra. Quella figura è Cristina, una povera anima innocente, purtroppo vittima di un efferato delitto. Dopo questa morte violenta, Cristina si trasforma in un mostro, in quello che viene definito appunto un vampiro assetato di sangue, che si aggira per le strade del paese a caccia di vittime, la cui ira contro gli uomini può essere placata solo con un sacrificio. Trovo davvero emozionante che un autore così importante si sia innamorato del paesaggio calabrese e abbia deciso di vivere tante stati e tante esperienze nella torre di San Nicola Arcella, che oggi tra le altre cose porta proprio il suo nome. ambientandovi addirittura uno dei suoi racconti dell'orrore più acclamati, mescolando l'immaginario fantastico e orrorifico con quello soleggiato ed esotico di questa terra. Fatemi sapere se l'avete letto oppure se vi ho incuriositi.